fa male perdere così si sicuramente fa male a noi dispiace tutti per com'è andata però peccato veramente abbiamo fatto veramente un buon primo tempo dopo che abbiamo fatto gol abbiamo iniziato anche a giocare molto bene peccato che non abbiamo abbiamo avuto occasioni di anche chiuderci magari andare su 2 a 0 però poi ne abbiamo sfruttato e poi se arriva così se non lo fai rischi di prenderlo però che cos'è che è mancato secondo te per arrivare alla vittoria o al pareggio comunque non so secondo me oggi oggi abbiamo giocato bene a dire la verità poi è andata partita è andata come andata ma secondo me l'abbiamo abbiamo affrontato molto bene ci siamo preparati bene per l'iversario però la fine non è andata come volevamo però niente adesso dobbiamo c'è fa male ma dimenticare perché mercoledì c'è già un altro la partita in casa col parma è una di quelle da cancellare nel calendario perché anche l'anno scorso è finita poi allo stesso modo ma sì anche l'anno scorso è andata molto male però peccato davvero perché avevamo partita in mano abbiamo giocato davvero bene però quando perdi così normale che ti poi dispiace perché non so cosa dire davvero perché se giochi male magari dici che ci può stare però abbiamo giocato veramente l'abbiamo interpretata bene poi non è andata così come volevamo la tua prestazione oggi come la giudichi non ho però io cerco sempre di dare al massimo di quando mister mi ha dato possibilità di cerco di sfruttare bene di 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 aiutare tanto mi campani come loro aiutano a me ma non era secondo me il più importante era oggi vincere o prendere punto mercoledì c'è già la possibilità di recuperare terreno se abbiamo noi siamo come oggi siamo in buone condizioni ma mercoledì abbiamo già ogni settimana ogni piace possiamo rifarci adesso dobbiamo andare a genova e far e far molto bene